Ciao a tutti amici e bentornati in questo nostro nuovo appuntamento video. Oggi non parliamo di MB Studio o meglio non lo facciamo direttamente con una delle sue funzioni ma lo facciamo per una collaborazione che è partita ormai diversi mesi fa e che sta continuando molto proficuamente il suo cammino ovvero la collaborazione con New Radio. Infatti qualora voi chiamiate il numero per andare a richiedere un'assistenza su MB Studio o appunto della formazione su MB Studio bene questa verrà evasa dal sottoscritto quindi mentre prima e comunque rimanevano due entità separate MediaStream e New Radio per quanto riguardava l'assistenza su questo potentissimo software di automazione radiofonica oggi su questa materia e in realtà anche su molte altre le due attività vanno ad unirsi e a collaborare insieme quindi che voi facciate assistenza con la MediaStream o che la facciate con New Radio la persona probabilmente che vi aiuterà a risolvere i vostri problemi o che vi insegnerà ad utilizzare il software sarà sempre il sottoscritto ma non solo attraverso New Radio comunque la collaborazione continuerà per tutti quei servizi che vengono erogati alla MediaStream saranno ovviamente a portata di mano anche di tutti quei clienti New Radio che hanno bisogno di assistenza tecnica in sede piuttosto che di formazione particolare e personalizzata o anche tutti quei servizi di assistenza tecnica sul materiale di bassa frequenza o l'installazione di nuovi apparati o e trasformazione soprattutto della radio in Visual Radio quindi tutto un mondo di servizi nuovi a disposizione per New Radio erogati dalla MediaStream in questa collaborazione che ormai è partita a inizio 2022 in maniera ufficiale e che oggi continua per offrire sempre più servizi a tutti i clienti utilizzatori di MB Studio quindi vi aspettiamo sul sito di newradio.it sul sito di MediaStreamSolution.com e come sempre buona radio a tutti visita il sito MediaStreamSolution.com per scoprire i servizi a disposizione per la tua radio